Il club a mountain bike di Montefiascone organizza per domenica 2 giugno dopo domani un gran mattine in mountain bike questo è il programma alle 8 inizio dell'iscrizione in via Oreste Borghesi presso Antelio Jacoponi alle 9 caffè o cappuccino con priosh alle 9.30 partenze per una passeggiata ecologica lungo la valle del lago alle 10.30 colazione presso il manigio della valle alle 11 il ritorno a Montefiascone alle 11.30 la premiazione per tutti quanti praticamente il comune di Montefiascone premia il club a mountain bike più numeroso fuori provincia e il club mountain bike proveniente da più lontani mentre il Jacoponi Cycles premia il club mountain bike più numeroso della provincia di Viterbo e poi c'è un premio per il più anziano dei partecipanti per il più piccolo e per la più piccola partecipante inoltre ci saranno premi, natura e confezione di vino SSS praticamente per tutti quanti il ritorno è assicurato con l'assicurazione card inoltre si fa presente ai club mountain bike e ai privati che vorranno partecipare per riuscire a organizzare bene tutto quanto sarebbe bene dare un cenno di adesione rivolgendosi ai seguenti numeri Jacoponi Cycles 82 61 67 ufficio Udace 34 50 88 il presso il signor Pascucci al 22 08 02 prefissato attualmente tutti quanti dallo 0761 il tutto è sponsorizzato da Jacoponi Antelio via Oreste Borghesi e 23 30 99 con telefono 82 61 67 a Montefiascone centro specializzato mountain bike disponibilità di modelli e misure delle migliori marchi italiane e americane l'appuntamento a loro ve lo ricordo è rimandato a domenica mattina 2 giugno a Montefiascone con l'inizio dell'iscrizione alle 8 presso Antelio Jacoponi via Oreste Borghesi Grazie a tutti